No smog, vietato produrre PM10, ce n'è già troppo. Nella pianura padana continua l'allarme polveri sottili e a Vicenza la mancanza di pioggia e vento complica la situazione. L'allerta è sempre più rossa e restano in vigore le limitazioni alla circolazione del traffico fino ai veicoli commerciali Euro 4 Diesel. Ma a differenza di altre città del nord Italia, a Vicenza, gli Euro 5 non finiscono nel mirino, come assicura l'assessore all'ambiente. Il livello rosso è confermato dalle analisi di questa mattina, purtroppo. Beh, di Euro 5 io non ho mai parlato, però ci tengo a dirlo. Mai ho pensato di fare una misura di questo tipo, l'hanno fatto altre città, secondo me anche con qualche problema normativo, ma ognuno si gestisce le scelte che assume. Noi assolutamente non lo faremo. Palazzo Trissino si ferma qui, non andrà oltre, non colpirà gli Euro 5. La battaglia per l'ambiente, come abbiamo sottolineato più volte, è sacrosanta, ma non può ricadere sui cittadini che hanno bisogno di muoversi per vivere, per lavorare, in particolare sulle classi meno abbienti che fanno fatica a cambiare l'auto con disinvoltura. E su questo è d'accordo anche il DEM Giacomo Possamai. Sono d'accordo, non bastano i blocchi del traffico, non servono ad abbattere le polveri sottili, non bastano ad abbattere le polveri sottili. Tre proposte secondo me sono fondamentali. Uno, efficienza energetica degli edifici e partire dalle case altre, per cui un fondo per migliorare l'efficienza delle case. Due, investimenti sul trasporto elettrico nella mobilità pubblica. Non possiamo vedere bus che girano nelle nostre città che hanno vent'anni, che inquinano come tantissime automobili. Tre, fondi per sostituire caldaie e macchine per chi non se lo può permettere, perché c'è gente che non può pensare di acquistare una macchina da 20-25 mila euro che inquini meno di quella che è oggi. Insomma, Stato, Regioni, Comuni devono fare la loro parte. A Vicenza si punta su misure strutturali, ma utili anche ai cittadini, come l'idea di prolungare la durata del biglietto dei mezzi pubblici. Invito i cittadini ad approfittarne del prolungamento della durata del biglietto che è stata data grazie alla provincia di Vicenza, SVT, sia nei giorni di allerta arancione che nei giorni di allerta rossa. L'idea è quella di rendere questa una misura il più strutturale possibile, magari coordinata anche con altri provvedimenti, perché no, con qualche altro parcheggio di interscambio di cui la città ha bisogno. E poi vanno soprattutto controllate le caldaie, perché ormai c'è la consapevolezza evidente e scientifica che il vero problema è il riscaldamento.